Il PDL questa volta si ripresenta alle elezioni con un simbolo uguale ma sembra con una composizione diversa. Per composizione diversa si intende che ci sono state delle diaspore con alcuni elementi importanti del PDL che sono usciti formando altre liste, cito Fratelli d'Italia, oppure che ci sono altri ancora che sono candidati in liste antagonista, è evidente che le liste saranno diverse. Noi non abbiamo seguito anche per l'accelerazione che c'è stato in termini politici il percorso delle primarie, c'è stata una ridiscesa in campo del Presidente Berlusconi che credo con poche settimane abbia recuperato un gap importante rispetto a quelle che erano le percentuali di alcune settimane fa. Sono state stabilite delle griglie nelle quali in linea di massima, salvo dereche particolari, viene individuato il profilo di un possibile candidato. Questo è stato fatto dall'ufficio di Presidenza. Oggi si sono incontrati a Roma i segretari regionali e i vice segretari con Berlusconi e da domani si comincerà a discutere regione per regione della composizione delle liste. Perché se Berlusconi è stato così bravo a coprire questo gap nell'elettorato, da parte dell'elettorato, non avete deciso di ricandidarlo come Presidente? Beh, intanto il Presidente Berlusconi un anno circa fa, vittima di quelle che noi abbiamo definito in più circostanze una congiura internazionale della finanza e delle banche di alcuni potentati europei. Era stato in qualche misura invitato, in una situazione in cui lo spread era diventato altissimo, a farsi da parte. C'era stato un intervento improprio e sicuramente non legittimo da parte del Capo dello Stato e di fronte ad una situazione nella quale la sua presenza appariva a mettere in discussione la solidità dell'Italia, lui ha inteso, mai sfiduciato in Parlamento, fare un passo indietro. A distanza di un anno, nel momento in cui erano arrivati i tecnici che dovevano essere la panacea di tutti i mali, avendo verificato che tutti gli indicatori economici erano peggiorati, il Presidente Berlusconi ha legittimamente deciso di riscendere in campo. Lo ha fatto, lo dicevo, soltanto qualche settimana fa. Credo di poter affermare che allora il PDL veniva dato intorno al 12, 15, 16% a seconda delle varie agenzie che si occupano di sondaggi. Oggi l'ultimo sondaggio lo dà intorno al 23, 24%. Quindi c'è stata una rimonda clamorosa e inaspettata, alla quale però devo dire il Presidente Berlusconi anche in passato ci ha abituato. E allora come mai non si candida come Premier? Non si candida come Premier perché tutti i partiti necessari per creare una maggioranza di aria vasta che abbia la possibilità complessiva di vincere hanno scelto che lui sia il leader della coalizione, come tale è riconosciuto e poi il discorso su quella che può essere una Premiership viene evidentemente rinviato ad un secondo momento. Potrebbe tranquillamente essere un altro del PDL e vedremo alla luce dei risultati che si otterranno e delle dinamiche che ci saranno a livello nazionale quale sarà la soluzione che andremo ad adottare. In questi anni di governo Berlusconi molte sono le cose che sono state rimproverate al PDL, molte le riforme non fatte. Come si ripresenta adesso il PDL? Qual è il programma che voi sostenete insieme al PDL nazionale? Allora, intanto se ci sono delle cose non fatte, cosa evidentemente non smentibile, è altrettanto vero che ci sono tantissime cose che sono state fatte. Non bisogna dimenticare che il Presidente Berlusconi si era presentato ad inizio legislatura con una maggioranza fortissima e che man mano che si è andata avanti c'è stata una diaspora che ha invece limato quelli che erano i numeri per poter governare questo Paese. Eravamo arrivati alla fine con sistematiche richieste di voti di fiducia sempre risolte per la verità ma che rendevano in una situazione difficile a livello economico di congiuntura internazionale, difficile governare con numeri risicati. Abbiamo scelto, e il Presidente Berlusconi in questo senso ha regalato al Paese un atto di generosità, di retrocedere rispetto alla sua legittimità a governare il Paese perché è eletto a vantaggio di un tecnico che non era stato eletto e che la congiuntura internazionale, diverse forze politiche, il Capo dello Stato ma anche una sorta di congiura internazionale hanno in qualche misura creato le condizioni perché lui accettasse questo passo indietro. Che la congiura? Ma è ripresentato un programma diverso da quello che avete presentato prima oppure no? Beh no, ci sono naturalmente delle variazioni perché i programmi non possono che essere modulati rispetto alla situazione che un Paese vive nel momento in cui ci si presenta agli elettori. Ci sono delle cose che oggettivamente sono un po' nel DNA di questa parte politica. Il primo atto che il Presidente Berlusconi ha detto farà nel momento in cui dovesse essere maggioranza in un governo potrebbe e dovrebbe essere quella dell'abolizione dell'Imu. Una eventualità che qualche settimana fa veniva bollata come populismo puro sia da Monti che da Bersani e che oggi invece sia Monti che Bersani valutano come una possibilità da attuare per creare meccanismi di ripresa economica del Paese perché in una fase recessiva continuare a massacrare i cittadini e le imprese con delle tasse. Leggevo l'altro giorno che rispetto agli affitti si restituisce l'86% di quella che è la riscossione di un immobile affittato e questo fa intendere del perché in questo Paese nessuno investe più, nessuno mette in moto dei meccanismi visto che buona parte dell'anno si lavora con un socio occulto che è lo Stato. Questo per il patrimonio immobiliare e per il sociale? Per il sociale ci sono tutta un'altra serie di problematiche che naturalmente vanno affrontate. che ci sia una soglia di povertà che sia in aumento è fuori discussione. Sono le ricette quelle che in questo momento dividono il PDL dal resto del contesto politico. Da sinistra si dice che ci servirebbe una patrimoniale, cosa evidentemente accettabile ma se si ha anche contestualmente il coraggio di dire che un eventuale patrimoniale va a recuperare il 3% di quanto serve, quindi è più un'azione se vogliamo ideologica e dimostrativa che pure si può fare ma che non risolverebbe evidentemente il problema. D'altra parte non si può andare avanti come sta facendo Monti, laddove, lo ripeto, in una fase recessiva si continuano a fare tassazioni di tipo orizzontale, quindi colpendo sistematicamente e soprattutto i cedi più deboli o i colori quali hanno una ritenuta alla fonte degli loro emolumenti e questo non può che portare ad una maggiore recessione che può diventare addirittura di tipo depressivo. Le altre list hanno presentato diversi candidati appartenti al terzo settore, nel PDL ci saranno? Ripeto, c'è una griglia, il presidente Berlusconi, salvo qualche deroga che non credo siano tantissime, ha già chiarito che vuole candidare nuovi soggetti, ha ipotizzato che addirittura soltanto il 10% dei parlamentari uscenti saranno ricandidati e il resto sarà sviluppato tra la cosiddetta società civile, tra le categorie imprenditoriali, gli operai, il terzo settore, tutti coloro i quali hanno nell'ambito delle società delle funzioni che sono specifiche e che debbono essere rappresentate. Grazie. Grazie.